Ciao a tutti, sono Spiega98 e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Soltate che abbasso l'audio. Abbassiamo il mio gioco e abbassiamo moltissimo. Fatto. Preparare a cambiare schieramento. Come vedete stiamo giocando online. Questa è la puntata 2 se non sbaglio di Affordid sul mio canale naturalmente. Allora, Boomer. Ma sì, facciamo così. Scegli il luogo di generazione. Saliamo qui. Come vedete deve essere una figata. Ora noi andiamo ad attaccare i Survivors. Già finita? Scherzate? Sì. Sì, sì, dai giochiamo. Scusate se oggi non fare un video lungo su Affordid. Però non ho molto tempo, diciamo. Infatti qua mi stiamo facendo dannare per fare una partita. Porcaccia. Io sono qui. Vota per cominciare. Io sono pronto. Come siamo al server di gioco? Ce la potremo fare. Guardate mi è tornata la parlantina. Quella famosissima parlantina. Dovrebbe essere anche uscito un vlog. Un vlog dove parlo della nuova serie che voglio fare nel mio canale. Se non è uscito uscirà oggi oppure domani oppure dopo domani. Insomma, qualcosa la scriverò. Comunque, grazie per gli apprezzamenti naturalmente per la puntata della Techcraft. Quella che è uscita ieri. Dovrebbe essere uscita ieri, credo. Sì, è uscita ieri, in effetti. Non ho ancora controllato neanche le statistiche. Ho solo visto dei commenti sulla mail. A me, sinceramente, non sembrava così bella quella puntata. Sinceramente. Poi la puntata di ritorno dalle vacanze, insomma, non sapevo neanche in che modo intraprendere una conversazione. Quindi, se magari riesce a caricare, non so più cosa dire. Non so più cosa dire. Perché sto facendo queste voci così? Ok, ora mi strikeranno il canale. Bene. Oh, cazzo, è vero. Devo abbassare notevolmente la musica di gioco. Non si può proprio toglierla. Perché, come avete letto, da qualche parte sta succedendo un casino, insomma. Sono un casino, no? Abbiamo, diciamo, aumentato la possibilità di fare copia white strikes. Sta, tipo, ok. Avatemi vedere un pochino la musica. Audio. Volume musica, zero. Zero. Volume di gioco, magari lo alziamo un pochino. Grab a shot. Grab a shot. Troppo. Fatto. Torno alla partita. Ci prendiamo questo, anche se alcuni non proveranno, però non mi fiega niente. Armi, tu cosa sei? What the fuck? Sta laggando il server. Non può laggare un server. Non mi sono mossa abbastanza, devi prenderla. Sto laggando sto merda di server. Aiutatemi. Aiutatemi. Grazie. Ti amo. Dove cazzo sono? Come saprete le persone... Non riesco a parlare, sono troppo concentrati. Sia gli zombie che le persone umane sono veramente persone umane in realtà, in questo server. Oddio, scusa. Vi giuro che sta laggando un casino. Io non sono. Sta laggando, ha una condizione. Che fa invidia alla game hosting. Troppo altro, ma... Sì, lo so che non dovrebbe rimarmi, ma... Fatto. Torno alla partita. Molto migliore assai. Oddio, santo. Oh, lo santo. Ricarica. Merda, è morto. Oddio, che se sei tu. Cosa sei tu? Io non sono sul topo. Fuck you. Fuck you. Dove registrare anche un altro vlog. Mi piace fare vlog, oh cazzo. Senti, sei gaiolo, lasciami là. Ok. Non sono così bravo, in effetti. Grazie per l'aiuto. Grazie. Preparate a cambiare schieramento. Quindi qui di nascimento diventa zombie. Sì, dovrei diventare zombie. In realtà non mi sembra poi così divertente, perché lagga come un porco sto server di merda. Ok. Spawnerò. Qui. No. No. Sto attaccando, ve lo giuro. Oh, senti. Mi dispiace, ma mi sa che... No. Basta. Stop. Giochiamo in single player. Scusatemi, veramente, non è colpa mia. Eh, sì. Offline contro un giocatore. Facciamo... Che ne so. Raccolto di sangue? No. Nessuna pietà. Capitolo 1. Gli appartamenti. La metropodità. La fogna. L'ospedale. Il tetto. Facciamo l'ospedale. Difficoltà normale. Personaggio casuale. No, io voglio essere Bill. Una casa. Scusate, ma veramente il lag non lo sopporto. E poi... E che cazzo? Sempre a me devono capitare. Oggi è di nuovo la giornata no. Cioè, in realtà è la giornata no per eccellenza. Unione e una partita campagna. Non capisco cosa hai detto. Dai. 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 Scusate, se questa puntata è una merda, ma non è colpa. Mia. Non è mai colpa. Ok. Sono sfigato. Ok. Ci prendiamo un'arma. E facciamo un... Cioè, ci prendiamo questa. Ormai sono fissato inutile. Una pistola come arma secondaria. Ciao. Oddio, ho fatto rumore. Ok. Poi cosa abbiamo? Kit. Poi nient'altro. Andiamo. Iniziamo subito la puntata. Oh, merda. Ciao. Voi non siete cattivi. Non sparate, non simpatico. Tipo. Senti brutto stronzo. Andiamo. Allora. Grazie. Stavo ricaricando dove... Stavo dicendo. Ho intenzione di creare tantissime serie di tantissimi giochi, però... Non so se siete d'accordo, perciò farò qualche son merda. Un sondaggio. Perché l'hai sfondata, brutto stronza? Dicevo... Farò dei sondaggi. Quindi visitate il mio sito molto spesso, perché... Poi... Ho abbastanza... Dovrei perlomeno avere abbastanza tempo per registrare, in quanto... Ne ho la possibilità, ecco. Ho il tempo. Finalmente. Cioè, non oggi, però... Tra una settimana circa avrò un sacco di tempo. Ho la stessa pistola. La di queste sì. Ma che cazzo... Ok. Dove siamo andati? Non mi sto divertendo particolarmente. Io volevo giocare al multiplayer, a seconda che... C'è stato quel problema. No, ma ci siamo già stati. Ho stato io con l'ultrattore. Ciao, puttana. Puttana, puttana. Allora. Sono abbastanza silenzioso. Oddio, ma perché sempre me? Sei gaiolo. Bastardo. Bene. Allora, cosa facciamo? Andiamo su. Sì. Sì, sì, la risposta è yes. Ma vaffanculo. Oddio! Si spawnata adesso. Lolland. Vorrei anche iniziare una serie in Battlefield, se siete d'accordo. Speriamo di sì. O magari... Cioè, ho intenzione di comprare un bel po' di giochi. Quando vedrete questo video, probabilmente li avrò già comprati. Speriamo di sì. Ah, mi voglio scusare ancora, visto che mi sono dimenticato di dirlo al video scorso. Non mi voglio scusare ancora per il fatto che non ho potuto fare gli auguri di Capodanno in diretta. In realtà non saprei come scusarmi, però prima o poi troverò un modo. Non vedo una minchia. Oddio, io ti ho visto, ti ho visto. Divertitevi. Faccone. Perché non vedo il merito a pezzo? Ok. Scendiamo giù. Eh, sono un coglione. Stavo usando lo shift. Esattamente a cosa mi serve. Ah, capisco. Di solito vuol dire che c'è un'orda di zombie intenta a rompermi l'anus. No, prendetelo anche voi, bastardi. Devo caricare molto io il peso. Dai, proviamolo. Sì, funziona. Lolland. Ciao. Oh, scusa. La praga, si hai ragione. Non ti sei permesso di sparare, brutta stronza. Dove sta andando? Eh, la vi, la vi. No, mi sto annoiando. Quando mi annoio, faccio annoiare anche a voi. Mi dispiace tantissimo. Eccomi qua, scusate. Andiamo qui. No, qui non c'è un cacchio. Dicevo, quando mi annoio, faccio annoiare anche a voi. Mi dispiace tantissimo. Però vabbè, ormai la puntata è praticamente finita. Oddio, vaffanculo. Mi sono sfogato. Qua non c'è più la porta. Qua non c'è più la porta. Curatemi. Curami. Devi curarmi, negro. Ok. Perché sì. Grazie. Ciao. Bella, Erle. Non mi c'è la spalla? Ah, scusate, non l'avevo visto. Andiamo nei cessi. Let me see your fucking hands, let me see your fucking hands. Oh, merda. Chiudi questa porta. Ok. Scusatemi. C'è qualcuno? C'è qualcuno. Sì, mi sono dimentichato a dire una cosa. Nella serie spiega 98 Techker. Techcraft, stavo per dire Tech. Techcraft, stavo per dire Techcraft. Non ce l'ho detto. Volevo dire, nella serie spiega 98 Tech, consigliatemi qualcosa da comprare e spiegare come funziona, insomma. Che so, che ne so, una scheda video, quello che volete. E io vedrò cosa posso fare, naturalmente. Beh, ovvio, naturalmente poi la devo anche usare, se no non ha senso comprarela. Quindi qualcosa che io possa anche usare, una volta comprato. Sure? Yes. Beh, sono finito gli zombie. Let me see your fucking zombie, let me see your fucking zombie, let's fucking zombie. Oddio, in che senso. Ci caliamo ancora di più, e ancora di più. Ok. In realtà ci sono già stato qui. Sto girando senza meta. Il detector. Ha, ha, ha. Ha. Facchio, facchio figlio di puttana. Ok. Saliamo su. Eh, ma sì, saliamo su. Saliamo su, esattamente. Qua ci siamo già stati, voglio salire là, lassù. Allora, visto che è caduto da qui. No, non da qui. Da tipo... Ma che fate, facconi? Va bene, questa puntata finisce qui. Io sono Spiegel98, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi, condividete. Ecco, anche il timer ci avvisa. Eh... Diciamo, mi trovate su Twitter, Google Plus e sul mio sito Spiegel98.10.mx Ci vediamo nel prossimo video. Probabilmente ci vedremo molto presto in un vlog. Insieme a un video attualmente giornaliero. Quindi, c'erano due video. Non so quando, però, succederà. Però poi. E niente. Ci vediamo nel prossimo video. Salutiamo col grassone. Quello non ci dico. Ciao a tutti. Ciao.